Ora parliamo di quanto sta accadendo a uomini, donne e bambini non lontano da noi, in Giordania, alla frontiera con la Siria, dove la condizione in cui vivono è davvero drammatica, ma purtroppo spesso non ce ne rendiamo conto. Mancano i beni di prima necessità e non solo. E proprio per riflettere su queste situazioni, sulle cause dell'esodo siriano, è stata organizzata una serata a Cremona con molti ospiti illustri, perché l'esodo coinvolge sul tema dei richiedenti asilo il nostro paese e anche la città di Cremona. Tra l'organizzatore della serata, Massimo Annibale Rossi, operatore umanitario nostro, ospite in studio questa sera. Buonasera, benvenuti. Buonasera. Dunque, partiamo da una fotografia della situazione giordana al confine con la Siria. Cosa sta succedendo in quelle zone? Si tratta di un esodo biblico, come non si è mai visto. La sola Giordania, che ha 6 milioni e mezzo di abitanti, in questo momento ha dovuto assorbire un flusso di 700 mila profughi siriani e alla frontiera continuano ad affollarsi nuove famiglie, nuovi nuclei che infuga praticamente dei nuovi bombardamenti. Come sappiamo c'è stata la dichiarazione di una tregua, ma questa tregua viene rispettata solo molto parzialmente. E come vivono quindi queste persone? In che condizioni? I primi ad arrivare sono riusciti a portarsi dietro soldi e qualche proprietà. Poi progressivamente, con il peggiorare della situazione, purtroppo le condizioni di arrivo dei profughi sono peggiorate drasticamente. Ci sono due grandi campi profughi, Zatari e Askar, che hanno una potenzialità di circa 120-80 mila persone, che però in questo momento hanno ancora dei problemi di sicurezza interna, per cui molti dei nuclei scelgono di accamparsi un po' alla belle meglio, insomma, nei dintorni soprattutto di Irbid e di Mafra, che sono due città di confine. E in questi campi, che definiamo informali, le condizioni sono veramente gravi, nel senso che ci sono molte affezioni intestinali e respiratorie nei bambini, e condizioni di igiene assolutamente insufficienti e una situazione di isolamento che porta i bimbi, a volte per anni, perché questi campi si sono formati tre anni fa, a lasciare la relazione con la scuola e con l'educazione. Infatti vediamo che sono tantissimi dalle vostre immagini e questa è un'età in cui dovrebbero frequentare. Assolutamente sì, l'idea di base che abbiamo implementato a partire dal 2013 è quella di andare laddove il bisogno sembra più grave, insomma, per cui il fatto di dare un messaggio alle famiglie e ai bambini di attenzione da parte del mondo adulto e in particolare del mondo adulto europeo sui loro bisogni è il risultato in qualche modo molto costruttivo rispetto alla volontà delle famiglie e dei bambini di in qualche modo recuperare il tempo perduto o impegnarsi con noi nella costruzione di una scuola. Questa immagine che è passata poco fa è particolarmente significativa perché mai i bambini in campo informale sarebbero aspettati che uno scuola a bus potesse andare a prendere la mattina, come invece capita ogni mattina da quando il nostro centro a Mafra che ha aperto. Ecco, quindi l'importanza di sensibilizzare, far conoscere alle persone queste realtà, anche attraverso delle serate. Esattamente, noi vorremmo portare un seme in qualche modo di riflessione sulle ragioni di questo esodo, su quello che sta avvenendo il Medio Oriente e se vogliamo anche sulla responsabilità, insomma, che l'Occidente ha avuto in questa guerra e nella conduzione di questa guerra che si è avvitata su se stessa fino ad arrivare a queste estreme conseguenze, insomma. La serata sarà a questo fine settimana? Esattamente, noi ci stiamo preparando all'evento per sabato sarà nel Palazzo Cittanova, quindi avrà una sede, come dire, assolutamente autorevole e al nostro appello hanno risposto dei nostri amici, insomma, di lunga data in particolare il nostro maestro Monio Vadia, che quella sera proporrà una parte del suo repertorio yiddish, quindi lo porteremo a cantare, accompagnato da il maestro Michele Fedrigotti al piano. E ci saranno anche altre esibizioni, quindi davvero una serie di ospiti importanti. A Fremona, lo ricordiamo? Sì, sì, sì. Avremo poi un violinista siriano, che è Allah Ashad, che ci proporrà una solo e un intervento che ricorderà appunto la cultura da quale ha origine il tema della serata. E oltre a questo avremo una testimonianza molto importante, che è quella del professor Nabil Allao, che è stato il sovrintendente dell'Opera di Damasco, professore dell'Università di Damasco, ed è stato uno dei protagonisti dell'avvio di Van Orchestra, l'orchestra che ha unito il maestro Van der Boehm a Ido Arsaid, riuscendo a mettere insieme musicisti israeliani e musicisti palestinesi. Quindi la serata proseguirà con un'orchestra giovanile, che è la Milano String Academy, e avremo poi la possibilità di vedere anche dei filmati che arrivano direttamente dal lavoro che noi stiamo facendo sul campo. Ringraziamo dunque Massimo Annibale Rossi, operatore umanitario, per averci illustrato e fotografato quali sono le situazioni che davvero da noi non sono poi così lontane. Grazie.